Contronews vi dà il benvenuto E anche i nostri ovviamente, non è che Contronews sia un'entità astratta Noi siamo Contronews e voi siete anche Contronews perché siete voi a lasciare i vostri commenti alle news della settimana Le vostre madri, i vostri padri, le vostre famiglie, fino alla settima generazione siete Contronews No, voi, ma che vuol dire? Almeno che non partecipano anche i genitori a Contronews E questa settimana ci sono stati degli argomenti che hanno scatenato una discussione nei commenti Macifica Ovviamente, come sempre ragazzi Riguardo, per esempio, al commento di Bruce Straley, ex Naughty Dog, director di The Last of Us Che ha criticato Red Dead Redemption 2 per un eccesso di costrizione del giocatore Ecco se così si può dire Sì, cioè per una finta libertà Cominciamo subito con leggere il commento di Gioele che parla per tutti Perché effettivamente ci sono stati altri 7-8 commenti più o meno simili al suo Mid, non sono d'accordo con te sulla notizia delle critiche Red Dead Redemption 2 Ok, l'ex director Naughty Dog non parla di scelte che influenzano la narrazione ma di scelte di gameplay durante le missioni In The Last of Us Uncharted per quanto sui binari è la possibilità di scegliere gli approcci, se aggirare i nemici Vabbè, mi interrompo qui Perché Gioele parla, fa questo commento? Perché io ho fatto una battuta su The Last of Us Cioè ho detto, vabbè, allora anche in The Last of Us non ci sono delle scelte In realtà la battuta era solo una battuta che in effetti non c'entrava niente Perché The Last of Us è un gioco completamente diverso rispetto a Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 dà quell'illusione di libertà Dà quell'illusione al giocatore di avere voce in capitolo E quando io intendo scelte non ho mai inteso scelte morali Scelte di dialogo, non erano queste Libertà del giocatore di influire sullo script sia dal punto di vista del gameplay che dal punto di vista anche narrativo Per come l'hai posta però nelle news poteva dare adito a dei dubbi Perché poteva sembrare effettivamente che tu ti riferissi alla mancanza di scelte che potessero influenzare la storia In generale io da questo punto di vista invece sono d'accordo con Strayly Perché inizialmente ho detto, noi non siamo d'accordo, no, siamo d'accordo in realtà Tu parla per te, parlo per me Io ho sempre espresso questo dubbio nei limiti del gameplay di Red Dead Esatto, per l'eccessiva mancanza di scelta dal punto di vista del giocatore di Red Dead Redemption 2 Quindi questo spero sia chiarito Sì, adesso è chiarito chiaramente, tant'è vero che nei commenti appunto noi abbiamo detto Abbiamo risposto a uno dei ragazzi che aveva mosso la stessa critica nei nostri confronti Che era una critica alla critica di Bruce Traley Sostanzialmente avremmo approfondito in Contro News Ci fa piacere quando nascono queste discussioni perché siano pacifiche E fa piacere anche vedere che la gente quando vede che magari trattiamo una cosa Che può essere un po' fraintendibile o che possa arrecare dei dubbi Per dissiparli si chiedono, magari la tratteranno in Contro News Esatto Obiettivo dell'anno raggiunto, cioè Contro News trasmissione proprio Grazie ragazzi, questa mi fa molto piacere Quindi, se posso dire la mia, anche in Red Dead Redemption 2 è vero Ci sono troppi limiti, è una libertà finta Una finta sensazione di libertà che viene trasmessa al giocatore A causa della mancanza di approcci nel gameplay Quindi non trattiamo la storia Nel gameplay della storia principale Ecco questo è il collegamento che poteva aver dato adito a qualche fraintendimento Che effettivamente fanno rimanere con la mano in bocca Il più grande concorrente di Netflix sarebbe Fortnite Proprio a detta di Netflix stessa Perché Fortnite distrarrebbe troppo l'utenza Sia che gioca, sia che guarda i gameplay di Fortnite su YouTube Dal guardare la TV Non solo, distrarrebbe persino dalla vita reale Madonna santa, quanto odio Netflix Quindi starebbero incolpando Fortnite perché la gente gioca a quello Piuttosto che guardare le cose sul servizio È come se il gestore di un ristorante incolpassse i supermercati Di togliergli la clientela Perché grazie a loro le persone possono cucinarsi il cibo in casa propria Beh 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 Non lo so se È un'osservazione acuta ma forse parziale Cioè nel senso Fortnite vuole far capire come l'ambito dell'intrattenimento Sia da considerarsi oggi più che mai E questo dovrebbe lusingarci signori Perché mettiamo tutto sullo stesso livello È più che mai vasto E comprende anche i videogiochi Sullo stesso livello dei film, del cinema e di quant'altro Questa è una cosa bellissima per i Noi degli anni 90 che invece vedevano sempre declassati i videogiochi A qualcosa di secondo piano, di seconda categoria Di non... che non fosse possibile farli competere con film, cinema, serie tv Quelli erano a un livello superiore, erano molto più mainstream Adesso invece i videogiochi sono arrivati lì Ma ci sono arrivati con Fortnite? E sì! E quindi forse sti cazzi Vediamo un altro commento di Italian Gamer Che Fortnite sia una concorrenza verso molte attività Non c'è dubbio Ma Netflix? Io sia Fortnite che Netflix E ho la consapevolezza Se voler guardare qualcosa, giocare qualcosa, no? Sì Perché effettivamente sono due attività completamente diverse Allora, si tratta comunque di impiegare il proprio tempo Andiamo a dire Leggo un libro, guardo un film È una scelta Il tempo è quello E bisogna dedicarsi a qualcosa Sì Però adesso il fenomeno è fatto Io credo che possa distrarre Assolutamente sì Ma come qualsiasi altra attività Sai, forse una cosa Probabilmente Fortnite è un videogioco particolarmente assue facente Poinvolge tantissima gente Quindi a livello proprio di quantificare le possibili I possibili utenti distratti su Netflix Effettivamente potrebbe essere un danno Sì, sì Fortnite è accessibile su qualsiasi dispositivo Anche dal cellulare Quindi in qualsiasi luogo vi troviate Potete giocare Però rimango anche del parere di Italian Gamer Che sostiene che se io voglio vedermi qualcosa me la guardo Se io voglio mantenermi invece più attivo a livello cerebrale Anche fisico un po', muovendo le mani eccetera Gioco a un videogioco Però se questo dovesse servire per migliorare la qualità dei prodotti su Netflix Ben venga Quindi esatto Netflix Ma la notizia principe nelle news della settimana La title news, main title news delle news della settimana È Sony condannata in Italia dall'antitrust a pagare 2 milioni di euro Per pratiche commerciali scorrette Che cosa vuol dire? Che Sony non riporterebbe sul fronte e retro delle copertine dei propri giochi E neanche della scatola della console Il fatto che alcuni giochi, la maggior parte, quelli non free to play Richiedano un abbonamento a PlayStation Plus Non PlayStation Network Nelle news non so per quale motivo io abbia detto PlayStation Network tutto il tempo Vabbè però si è capito che volevi dire Ragazzi un lapsus quanto una casa Scusatemi un lapis Un lapis Comunque PlayStation Plus che non sarebbe adeguatamente segnalato ai giocatori più sprovveduti Quindi a tutti sostanzialmente perché poi non possono esserci segnalazioni diverse a seconda del giocatore Sul fronte e retro delle copertine dei giochi e anche sulla scatola della console Bene Questo è qualcosa che fa discutere sì Perché Sony ha dichiarato di aver ricevuto questa condanna ingiustamente Poiché gli utenti PlayStation 4 sarebbero già esperti abbastanza del discorso giocando online Tanto da non necessitare ulteriori memorandum, ulteriori diciamo rinvii al fatto che si debba usare un abbonamento e quindi si debba pagare Io su questo ho dei dubbi Su questo infatti l'ho detto Sono tantissimi ragazzi, tantissimi utenti che ci chiedono costantemente Ma ho bisogno del PlayStation Plus per giocare a questo gioco? E noi certe volte non rispondiamo la maggior parte delle volte perché spesso siete voi stessi a rispondere loro E spesso rispondete ovvio, ma certo, ma cosa credi? Eppure ragazzi noi dobbiamo sempre metterci nei panni dell'utente più sprovveduto, l'utente zero L'utente che acquista la console oggi e non ha mai acquistato un'altra console in vita sua Ed è sempre stato abituato per esempio al PC Mettiamolo un po' più grandicello sempre sul retro della copertina Un bollino col simbolo del plus Richiede abbonamento online per giocare Luca Papisca dice Concordo con l'antitrust Faccio il mio esempio Ho comprato PS4 al Black Friday E l'ultima console avuta era la PS1 Ho sempre giocato al PC, quindi online gratuito E se non avevo amici con la PS4 Chi lo avrebbe saputo del plus? Magari tornavo a casa, accendevo il gioco e mi attaccavo Molto bene, allora come ulteriore notizia Stavolta non tratteremo i dissidenti O comunque i commenti quelli un po' più marginali Ma un argomento che non abbiamo trattato nelle news Di proposito perché volevo approfondire incontro news Perché necessita più un dialogo, una discussione Esatto Piuttosto che una enunciazione dello stesso nelle news appunto In maniera più telegrafica Dunque si parla di Epic Games Store Che ha deciso di promuovere Epic Games Store Appunto i giochi presenti nell'Epic Games Store Attraverso una collaborazione con gli influencer E fin qua E fin qua niente Collaborazione con gli influencer che si può concretizzare Anche tramite concessione del referral link A questi influencer per quel singolo gioco Qualora intendessero parlare di quel gioco Il fatto è che questa cosa è una pratica E cos'è innanzitutto un referral link? È un link che si mette in descrizione Per esempio durante le live su Twitch Oppure durante le live su YouTube Oppure durante qualsiasi In ogni video di YouTube in descrizione E permette di guadagnare Se il pubblico poi cliccando su quel link Va ad acquistare quel gioco Come quando noi facciamo la Tokyo Treat Esatto Ci tengo questa cosa a precisarla Non solo se si clicca sul link Perché lì sarebbe troppo facile Uno dice Ma si mette d'accordo Fa cliccare il mondo su quel link E ci guadagna Solo se la gente effettivamente acquista Attraverso quel link Il link di affiliazione Quale sarebbe il problema? Che Jeff Minter Per esempio Noto sviluppatore di videogiochi Ha espresso il suo dubbio Riguardo questo sistema Perché potrebbe dare adito A un processo vero e proprio Di corruzione appunto Degli influencer In che senso Che quindi sarebbero spinti A parlare bene di quel gioco Anche quando non pensano bene di quel gioco Anche quando non pensassero bene di quel gioco Al fine di farlo acquistare Ai propri utenti Ora Ma innanzitutto posso dire la mia Innanzitutto l'influencer Cioè non è che Ha il ruolo del giornalista Ok? Quindi se l'influencer Sta facendo una pubblicità È chiaro Vi dice ragazzi Io ho un'affiliazione Acquistate questo gioco Se vi piace Usate Se proprio dovete scaricarlo Usate il mio link in descrizione Perché io guadagno una fetta Altra cosa Voi non sapete Quante volte ci propongano Propongano a noi youtuber Non soltanto a noi Un sistema del genere Per tantissimi giochi E quanti noi ne rifiutiamo Perché non saremmo in grado di parlare bene di un gioco Qualora non ci piacesse È vero Certe volte avete visto delle pubblicità Su questi canali di giochi Che potrebbero non piacere a voi Ma che noi abbiamo trovato comunque validi Da proporre a voi E che voi poi potete Gradire o non gradire Non ha importanza Non erano recensioni Non parlavamo necessariamente bene di quel gioco Anzitutto Epic Games Store Epic Games non sta dicendo proprio espressamente Dovete parlare bene di quel gioco In maniera tale che lo vendiate E anche voi ci guadagnate Non è questo che ha detto Epic Games Store Eppure la notizia è stata riportata così Su diversi siti di informazione Però secondo me è in maniera errata E anche lo stesso Jeff Mintel Non capisco Perché si tratta di pubblicità Quindi alla fine Qual è il problema? Si parla di corruzione Ma non mica è una recensione Ecco quindi bisogna distinguere le due cose Poi vabbè Io non parlo per gli altri influencer Però per esempio io parlo per noi Se io devo pubblicizzare un gioco Ve lo pubblicizzo Se io devo fare la recensione Non ve lo pubblicizzo Esatto Questo è un altro discorso Quindi mi sembra che sia tutto abbastanza chiaro È chiaro che poi ci sono quelli Che non si fanno scrupoli E vi dicono che è bella pure la merda Quello è ovvio Ma voi dovete chiaramente capire Chi effettivamente vi sta dicendo una cosa per un'altra E chi invece può essere più genuino Il link d'affiliazione Serve semplicemente a dare un incentivo A parlare del gioco Cioè tu sai Che hai il link d'affiliazione Quindi puoi guadagnare Con la vendita di quel gioco Puoi trattarlo Ma non necessariamente ne devi parlare bene Come noi con la Wannabox Come noi con la Wannabox Che avevamo il link d'affiliazione Però ci faceva schifo E lo dicevamo chiaramente Dicevamo ragazzi Cazzo ci mettono qua dentro Eppure alcuni l'acquistavano E spesso si crea quella sorta di antitesi Per cui ok lo scarico proprio perché è brutto E ci faccio un video brutto come lui Che fa ridere Sì anche con la reale palla In realtà gli hanno chiesto Ma come si chiama il gioco Perché voglio scaricare Ma la reale palla fa schifo Cioè nel senso ecco Ci siamo capiti Ecco Comunque ci tenevo Non era una news inclusa Nelle news della settimana Vogliamo qui i vostri commenti Esatto Ovviamente Su questo argomento Soprattutto ragazzi Sempre ci vuole la massima trasparenza possibile È chiaro che Per creare un rapporto di fiducia Tra influencer e pubblico Bisogna essere comunque Seri e trasparenti Perché nel momento in cui Doveste vederci pubblicizzare qualcosa Che a voi non piace Può significare comunque Che a noi sia piaciuta Ma qualora pubblicizzassimo Con una recensione e quant'altro Un gioco obiettivamente brutto E con una recensione Obiettivamente pompata Lì scatterebbe il campanello d'allarme Quello sarebbe assai grave Anche il solo secondo me Farsi pagare per una recensione È qualcosa di così grave Che io non voglio neanche pensarci È una cosa che noi abbiamo sempre rifiutato Ma neanche ce l'hanno mai proposta No non è mai successo Non ci hanno mai detto Vi paghiamo se fate la recensione positiva di questo gioco Avrei totalmente messo in blacklist L'azienda che ce l'avesse proposto Tutto qui Noi vi ringraziamo anche per questa puntata Del Contro News Bellissima Devo dire Mi è piaciuta Di lunga Particolarmente Proprio quando c'è più discussione E ci vediamo alla prossima Ciao